E' considerato uno degli ultimi ambienti incontaminati sulla Terra, ma ora le microplastiche rinvenute sembrano essere letteralmente cadute dal cielo. Un gruppo di scienziati tedeschi e delvetici ha trovato minuscoli frammenti di plastica e gomma nella neve sullo stretto di Fram, il tratto di mar, glaciale e artico tra le isole Svolbard e la Groenlandia in quantità tali da comprendere siano arrivati dall'atmosfera. Per alcuni muscoli sappiamo che sono vittime di reazioni infiammatorie, alcuni vermi soffrono invece di un livello di crescita più basso o di un tasso di riproduzione inferiore, altre specie ancora soffrono di un aumento della mortalità. Poi ci sono anche alcune specie che non sembrano mostrare alcuna risposta, almeno non al livello di cui ci stiamo occupando. Tuttavia dovremmo davvero pensare a ridurre il nostro consumo di plastica perché ne stiamo vedendo gli effetti. I campioni di neve utilizzati per lo studio erano stati raccolti durante alcune spedizioni di ricerca tra il 2015 e il 2017. I ricercatori affermano che sono necessari ulteriori studi per comprendere il danno che la plastica venuta giù dal cielo, parte della quale proveniente da navi rompighiaccio, potrebbe avere su pesci, uccelli marini e grandi mammiferi. Grazie. 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 Grazie.